Sicilia Acqua e Battecassa a Palazzo dei Giganti ed il Tribunale di Agrigento emette un decreto ingiuntivo. È stato disposto che il Comune paghi 95 mila euro più gli interessi per la fornitura di acqua nei parcheggi di Contrada Sant'Anne e Contrada Cugnovela. Il Municipio però non ci sta. L'Avvocato Rita Salvago, dopo aver esaminato tutta la documentazione del caso, ha comunicato che l'ente dovrebbe opporsi al decreto ingiuntivo, chiamando in giudizio l'ente Parco archeologico Valle dei Templi. Il Sindaco Lillo Firetto ha dunque autorizzato l'ente a proporre azione di opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento per il pagamento del credito vantato da Sicilia Acque ed inoltre ha chiesto se il Comune possa essere autorizzato a chiamare in giudizio l'ente Parco. E restando in tema di contenziosi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa dà torto a Girgenti Acque che aveva disconnesso le utenze fognari di alcuni utenti morosi a Grotte. Il Sindaco di Grotte, Polino Fantauzzo, aveva messo un'ordinanza con la quale era stato fatto di vieto assoluto alla società di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità. Da qui una nuova replica da parte dell'ente gestore che tramite una nota stampa ha voluto fare una chiara precisazione. Confidiamo, scrive l'ente in una nota, nella possibilità che tali principi possano essere fatti valere in giudizio di merito. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, nella fase cautelare, ha preferito non decidere nel merito del diritto rivendicato dalla Girgenti Acque e S.P.A. Si ricorda che in altri procedimenti aveva già sancito il principio che il Sindaco non può intervenire nel rapporto contrattuale tra utente e gestore nella situazione di morosità. Né tale intervento può essere giustificato da ragioni igienico-sanitarie quando l'ente deliberatamente sceglie di non volere il servizio idrico integrato. Grazie a tutti.